Mister Catalano, una partita molto tirata, la Mazzarese ha avuto le sue belle occasioni, diverse occasioni e poi voi invece alla fine avete sfruttato quell'occasione con la Piana e avete portato a casa tre punti importantissimi. Ecco, come leggere questa partita dal vostro punto di vista? Innanzitutto credo che si siano incontrate due squadre di alta classifica, alto livello è uscita fuori una bella partita, è giocata a viso aperto, credo che la prima parte della gara l'abbiamo fatta abbastanza bene perché siamo riusciti a prendere alti la Mazzarese, siamo andati a pressarli, non l'abbiamo fatto giocare, abbiamo avuto qualche piccola situazione quindi le situazioni più importanti sono avvenute credo nella seconda parte della gara dove noi i primi dieci minuti in quarto d'ora ci siamo abbassati un po' troppo, abbiamo lasciato un po' il pallino del gioco alla Mazzarese loro hanno giocato di qualità, hanno creato delle situazioni importanti, hanno preso due traverse, se non vado rato però poi alla fine l'episodio è fuori e ce l'abbiamo avuto noi, abbiamo fatto gol e da lì siamo riusciti a portare questa vittoria a casa e per noi è anche importante perché abbiamo iniziato un percorso piano piano, questa squadra sta crescendo sotto tanti punti di vista in questo senso sono abbastanza soddisfatto e poi la classifica lascia il tempo che trovo in questo momento Avete sfruttato degli spazi soprattutto sulla tre quarti quando la Mazzarese stava producendo il suo maggiore sforzo per raggiungere il vantaggio Avete cambiato qualcosa, è uscito il centro avanti, De Luca è entrato Dembélé e avete spostato anche la piana al centro dell'attacco Questa è stata forse la chiave che ha portato poi a quell'episodio che vi ha consentito di portare a casa i tre punti Sì, diciamo che ho dei giocatori abbastanza duttili, nel senso che anche lì in mezzo a campo sanno ruotare, si sanno muore abbastanza bene anche lì davanti Quindi sia Dembélé che ha preso il posto di De Luca, che la piana possono fare sia gli esterni che lì centro avanti, diciamo centro attacco Anche perché non dando riferimento, quindi non sono ragazzi strutturati come De Luca che bene o male sta lì fisicamente Ho creduto che nel finale di partita la Mazzarese avrebbe lasciato un po' di spazi e quindi ho pensato di mettere persone più veloci Che potevano attaccare bene gli spazi e ci è andato abbastanza bene